Ci troviamo nei pressi del convento di San Francesco, precisamente all'ingresso della sezione di archivio di Stato di Gubbio perché, come forse avrete sentito, purtroppo a distanza di anni si ripropongono alcune questioni. Entro il settembre 2021 la sezione dovrà essere trasferita da questi locali e da tempo si parla appunto di portarla, di portare tutto il materiale documentario che si trova qui dentro a San Pietro, assieme all'archivio comunale perché si dovrà spostare anche quello lì e quindi in tal modo avremo un polo culturale, biblioteca ed archivi veramente fantastico. Il sogno per ogni ricercatore. Ecco, noi naturalmente confidiamo in questo perché è anche l'impegno preso dal sindaco più volte ripetuto, non ultimo alcuni giorni fa, per cui, anzi, tra l'altro anche questa mattina attraverso Facebook, eccetera, quindi noi appunto auspichiamo, vogliamo innanzitutto che il materiale documentario resti a Gubbio, comunque vadano a finire le cose e poi chiaramente che questo materiale sia disponibile alla consultazione pubblica perché specie in questi ultimi anni, diciamo come vi sarete accorti tutti, l'interesse per la storia è aumentato a dismisura, la storia non solo urbana, cittadina, delle grandi famiglie, dei grandi episodi, dei grandi personaggi, ma anche la storia più minuta, anche nelle frazioni. C'è questo bellissimo progetto appunto portato avanti dall'amministrazione comunale che per noi naturalmente è un modo anche per far conoscere a tutta la popolazione le potenzialità della ricerca d'archivio.